Un caloroso saluto a tutti. Nel video che segue, vi fornirò un'anteprima delle emozionanti puntate in onda il 5 e 6 luglio. L'inizio dell'episodio ci porta nel giardino della villa, dove Ankar e Saniai trascorrono del tempo insieme. Nel frattempo, Ilmaz, con uno sguardo carico di rabbia, osserva Ankar da lontano e decide di seguirla furtivamente fino alle stalle, dove la osserva attentamente. Nel mentre, Ankar si prende amorevolmente cura dei cavalli, ignara della presenza minacciosa di Ilmaz. Tuttavia, proprio quando Ilmaz sta per puntare la pistola verso di lei, assiste a una scena inaspettata, Adnan si avvicina di corsa a sua nonna e viene abbracciato con amore, sciogliendo l'ira di Ilmaz che decide di abbassare l'arma. Nel frattempo, Fekeli discute con Cetin riguardo all'omicidio di Gengavie e alla pericolosità di Atip. Mentre Sermin e Fusan passeggiano per le strade di Cucurova, quest'ultima rivela a Sermin che Atip è il responsabile dell'assassinio di Gengavie. Fusan chiede a Sermin se, durante i mesi in cui hanno avuto una relazione, avesse notato qualcosa di sospetto. Inoltre, la mette in guardia, suggerendo che potrebbe essere lei la prossima vittima di Atip e che, nel caso venisse catturato, Sermin sarebbe chiamata a testimoniare. La pazienza di Sermin raggiunge il limite e le chiede di smetterla, ma Fusan, offesa, decide di allontanarsi. Nell'ospedale, quando Zuleya si risveglia, cerca di allontanare Demir, dicendo che desidera qualcosa di dolce, ma in realtà il suo vero desiderio è rimanere a lungo con Gulten. Esprime la sua gratitudine a Gulten per aver confermato le sue parole a Demir e spiega che quella mossa era l'unico modo per fermare Ilmaz. Gulten, ancora turbata, le fa notare che avrebbe potuto perdere la vita se Ilmaz non l'avesse salvata dal cadere. Ilmaz osserva con affetto Adnan mentre si diverte nel giardino. Poi, con determinazione, lo vede avvicinarsi. Quando Adnan si avvicina, Ilmaz lo prende dolcemente in braccio, gli regala un tenero bacio e gli sussurra che presto sarà riconosciuto come suo figlio a tutti gli effetti, non solo come Adnan Yaman. Nel frattempo, Ankar nota l'allontanamento di Adnan e inizia a guardarsi intorno ansiosamente, finché non lo scorge tra le braccia di Ilmaz, che lo coccola e lo bacia. Ankar si avvicina e afferma che Adnan è felicissimo perché presto sarà riunito con sua madre. Con gentilezza, prende Adnan tra le braccia e chiede di Kerem. Mentre li osserva intensamente, Ilmaz è tormentato dai propri pensieri e si domanda come troverà la forza di non fare nulla. Sermin sta attraversando la strada quando viene investita dalla macchina dell'uomo che cercava Fekeli. Immediatamente, l'uomo scende dalla macchina per controllare le sue condizioni. Mentre Sermin lo osserva attentamente, smette di lamentarsi, si addolcisce e inizia a flirtare con lui. Nel frattempo, all'ospedale, Zuleyha esprime a Demir il desiderio di sentirsi meglio e di tornare a casa, convinta che stare vicino ai suoi bambini accelererà la sua guarigione. Sabahattin si unisce a loro dopo aver appreso ciò che Zuleyha aveva fatto mentre era ad Ankara. Zuleyha rassicura Sabahattin che sta bene e che ha imparato a valorizzare la sua vita. A quel punto, Sabahattin le rivela di aver trovato una casa ad Ankara e di averla già arredata. Zuleyha chiede se può tornare a casa e Sabahattin le spiega che devono aspettare i risultati degli ultimi esami prima di poter prendere una decisione. Zuleyha e Gulten rimangono soli e Zuleyha confessa le confessa la necessità di tornare alla villa, ma senza voler vivere più quella vita. Con profonda fiducia in lei, gli chiede aiuto e rivela il piano che deve mettere in atto senza essere scoperta. Nel frattempo, Sabahattin si incontra con Demir e si fa carico della responsabilità per le azioni di Zuleyha. Demir ammette di essere al corrente di tutto, ma si sente diviso tra l'amore e l'orgoglio. Sabahattin gli fa notare che deve imparare a fidarsi di Zuleyha o lasciarla libera, perché senza fiducia non potranno mai essere veramente felici insieme. Poco dopo, Sabahattin controlla gli ultimi esami di Zuleyha e torna da lei accompagnato da Demir per comunicarle che può finalmente tornare a casa, ma dovrà continuare la terapia. Zuleyha e Demir si guardano con affetto e sorridono, consapevoli di aver superato molte difficoltà e di essere ora uniti nel percorso verso la guarigione e la felicità. Quando Zuleyha arriva alla villa, viene accolta con gioia da Ankar, che la accompagna immediatamente dai suoi bambini. Nonostante Ankar non abbia avuto l'opportunità di parlare con Demir da quando lo ha trovato con Sevda, le fa sapere che al momento non ha tempo perché deve concentrarsi sulla sua moglie. Poco dopo, Shetin giunge alla villa e informa sia Ankar che Demir dell'uccisione di Atip. Sospettano che gli uomini di Ankar siano responsabili di questo tragico evento. Fekeli convoca una riunione per decidere come agire e Demir si unisce immediatamente. Ghaffur, venuto a conoscenza della notizia, è profondamente agitato e urla a Gulten, che chiede se sia possibile che gli uomini di Ankar siano dietro l'omicidio di Atip. Saniai, che conosce bene Ghaffur, nota che sta nascondendo qualcosa che lo rende irritabile. Quando Gulten si avvicina alla villetta di Ilmaz, lui la chiama e la invita ad entrare, desiderando avere una conversazione con lei. Ilmaz confida a Gulten di aver visto Zuley a tornare a casa e le assicura che non farà nulla per turbare la sua tranquillità. Successivamente, le chiede se può raggiungerlo alla villetta, poiché desidera parlarle, considerando che Demir e Ankar hanno lasciato la villa. Nel frattempo, Saniai si unisce a Ghaffur alla villetta e nota la sua agitazione alla notizia della morte di Atip. Curiosa, gli chiede il motivo del suo nervosismo, ma Ghaffur nega e sostiene di essere solo preoccupato per la presenza degli uomini di Ankar in città. Esprime il desiderio di recarsi in città per ottenere ulteriori informazioni. Nel frattempo, Zuley, Adnan e Gulten si dirigono verso Ilmaz, che li accoglie con gioia. Si abbracciano affettuosamente mentre camminano insieme. Nel frattempo, Ghaffur arriva in città e si dirige dal barbiere, sperando di ottenere informazioni sulla morte di Atip. Il barbiere, rivelando che Atip era considerato una persona malvagia, complice degli uomini di Ancara, aggiunge che ha ottenuto quello che meritava per aver cercato di aiutare gli uomini di Ancara a sottrarre terre alle persone del luogo. Inoltre, rivela che Fekeli sta tenendo una riunione con i notabili del paese. Queste conversazioni vengono ascoltate attentamente da uno degli uomini di Ancara presenti tra i clienti in attesa. Nel frattempo, Sermine e l'uomo della macchina sono seduti insieme al bar, e lei inizia a parlare del rapporto tra Fekeli e Ilmaz, sottolineando che sono come padre e figlio e che sono partner in tutte le loro attività, possedendo insieme metà di Cucurova. Mentre Sermin continua a raccontare della moglie e del figlio di Ilmaz, Ghaffur passa di lì e si ferma per conversare con alcune persone nelle vicinanze. Durante la conversazione, Ghaffur menziona l'omicidio di Atip ad opera degli uomini di Ancara. Quando Ghaffur si avvicina a Sermin, lei gli fa notare che sembra molto felice, come se non avesse fatto nulla di male. Ghaffur le chiede perché dovrebbe essere triste, e lei gli risponde che il futuro è imprevedibile e che invia i suoi saluti a Demir. Successivamente, Sermin spiega al suo accompagnatore che Ghaffur è il maggiordomo degli Yaman ed è una persona molto ingenua. L'uomo le chiede informazioni sulla famiglia Yaman, e lei risponde che Demir è suo cugino e che dopo la morte del padre, la sua famiglia li ha derubati delle loro proprietà, considerandoli dei ladri. Nel frattempo, Ankar si reca da Naciai e, dopo essersi abbracciate, confessa piangendo che quando ha scoperto che lui aveva chiesto il divorzio, è stata lei a denunciarlo al procuratore per l'omicidio di Gengavie. Voleva che fosse punito, ma non desiderava che venisse ucciso, poiché era suo marito e il padre dei suoi figli. Ora si trova sola in quella casa. Il video termina qui. Se ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un mi piace. Grazie, e al prossimo video.